Preghiamo. Preghiamo e con l'augurio che possiamo portare poi nella vita e nel piano il sorriso e la bellezza e il candore e l'armonia dei monti che ora ci circondano e del cielo che ora ci sovrano. E un grazie al nostro Vescovo Monsignor Marco che oltretutto è anche amico di Macugnaga da tanto tempo, non ha aspettato soltanto oggi. Grazie.